Che cos'è l'assoluto? Che cosa significa che Dio è l'assoluto? Commento. Significa che il cosmo, che contiene l'universo a cui apparteniamo, è la presenza vivente di Dio, cioè dell'assoluto. Se non immaginiamo Dio in questi termini, non possiamo immaginare l'universo e, meno che mai, il cosmo. Se Dio è tutto, deve tutto contenere e se Dio non esistesse, vi sarebbe il nulla e sul nulla non si può discutere perché la stessa parola non esisterebbe. Quindi la presenza di Dio è tutto in espressione e l'assoluto che raggruppa tutti gli esperienti perché tutte le esperienze sono in Lui e nessuna esperienza è fuori di Lui.